Ciao, mi chiamo Maria Elena, frequento il corso di lingue e culture moderne L11 all'Università della Tuscia di Viterbo. Quest'estate sono partita un mese in Cina, a Danzhou, alloggiavo in un campus dell'Università Zhejiang e frequentavo le lezioni tutte le mattine in lingua cinese. Abbiamo approfondito tantissimi argomenti di grammatica e anche tantissimi argomenti di cultura generale della Cina e tante parole nuove. È stata un'esperienza unica e indimenticabile che rifarei altre mille volte e questa esperienza mi sta anche aiutando a studiare il cinese qui in Italia.